Musica 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 Le castandre, i nani, le ballerine, i ruffiani che hanno lavorato contro questa manifestazione Musica 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 Non un modello che non ci appartiene, non un modello di disegno bancario, di militare, non un disegno di prograscio. Noi siamo poste, poste italiane, la posta dei cittadini, la posta della gente. I nostri sacrifici nel corso degli anni non possono avere valutati da persone consulate, da capitani di lettura. La persone che un cuore non ce l'hanno, dentro questa piazza il cuore ce l'ha. Noi lo chiamo per la difesa dei nostri posti di lavoro e quelli che oggi non sono con noi. Vorremmo capire cosa distingue rispetto a un progetto che da qui appunto non c'è la posta italiana. Invece il documento economico che il governo lo sancisce 2017, è l'anno della prima dittazione di poste, se non cambiano le cose. Questa è la verità. E voi capite che cosa ne consegue. Ecco perché oggi noi siamo venuti a manifestare. E stiamo superando anche per quelli che mi chiedono a scondere alla testa. Noi lo chiamo anche per loro. Lo chiamo anche per le nostre famiglie. Per fornire ci sono anche quelli dell'obiettore. Per dare un futuro. Ed ecco perché alle istituzioni, alla politica, noi ci rivolgiamo. Alle confederazioni che siano vicine a questa battaglia che è cruciale, che ne va alla sopravvivenza di posti italiani. Da qui a poco noi saremmo chiamati a una scelta più pescita e quello che sarà il futuro nostro. E noi lo vogliamo rinunciare. Il futuro senza di noi non si può scrivere. Ma lo vogliamo fare. Io, quelli del governo, quelli del governo, che hanno in testa soltanto poche cose. Insieme faremo una ragione per dire che ci appartnerà anche a noi. E ci vorremo dall'altra parte. Se tutto ciò riederà contro di noi. Perché noi uniti ce la faremo, ragazzi. Forza, ragazzi. Lo vogliamo. Il futuro lo scriviamo insieme. Il futuro è nostro. Lo dobbiamo scrivere perché vogliono tutti quelli che ci devono a tolto. E da questa piazza della Calabria la grande soddisfazione che a voi le cuore calabrese, contro chi oggi anche all'interno dell'azienda, ritiene di non essere un calabrese. E noi ne siamo orgogliosi perché i calabresi sono qua, in questa piazza. E noi lo trovi. La Calabria la disegniamo noi. La Calabria siamo noi. La Calabria è il popolo della morte. Non sono i dirigenti. Non sono venuti mai come da voi. Non sono venuti in Napoli. Ce la va noi. Ecco, ragazzi. E che lo amorevo. Allora, e saluti ancora. E noi, oggi, 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 siamo stati insieme per poco. Ma ne è valsa la pena. Questo poco che abbiamo costruito insieme, noi lo porteremo. Insieme a quello di tutti gli altri. E perché diventi il mondo. E perché diventi il mondo. E perché diventi il mondo. E allora ci lasciamo con un'unica prato. Un'unione di senti che ci vedrà sempre i vicini. E tutti dovranno fare i conti con noi. Con questa piazza. Con chi oggi sta allontando. Il nome e il percorso di tutto il popolo delle porte. Grazie, ragazzi. Buon ricordo. Forza. Grazie. 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 Grazie.